X Factor 12 X Factor 12 entra finalmente nella sua fase più interessante. Questa sera 1 novembre i telespettatori di Sky 1 avranno finalmente la possibilità di seguire in diretta le avventure degli aspiranti pop star con la seconda puntata dei Live. Tra le varie esibizioni di stasera abbiamo visto anche quella di Renza Castelli. Come già vi abbiamo raccontato qui, ad accompagnare i talenti di X-Factor 12 nella loro strada verso il trionfo saranno Mara Maiocchi, Manuel Agnelli, Fedez e Lodo Guenzi. Quest'ultimo, il leader dello stato sociale, si è aggiunto in corsa per sostituire l'attrice Asia Argento, travolta da uno scandalo di molestie sessuali ai danni del collega Jimmy Bennett.I 12 concorrenti che parteciperanno a X-Factor 12 li abbiamo imparati a conoscere prima ai provini, poi ai bootcamp e infine agli home visit.Qui sotto trovate i loro nomi e cliccando su ognuno di loro potrete leggere la relativa biografia. Gruppi Under Donne Under Uomini over Matteo Costanzo eliminato durante la prima puntata come seguire, dunque, questa seconda puntata di X-Factor 12 in streaming? Non preoccupatevi se non avete a disposizione un abbonamento Sky. Vi informiamo che grazie al servizio NOTE potrete vedere X-Factor in streaming gratuitamente. Per poter accedere al servizio vi invitiamo ad iscrivervi al sito e attivare la prova gratuita di 14 giorni.Una volta terminate le due settimane di prova gratuita potrete eventualmente decidere se attivare o meno una delle offerte a pagamento previste e cliccate qui per maggiori info. Vi ricordiamo ovviamente che X-Factor sarà disponibile su dispositivi mobile e laptop per tutti gli utenti che hanno attivato l'offerta Sky.Go.Ecco a voi il video dell'esibizione di Renza Castelli.Vi è piaciuta l'esibizione di Renza Castelli? Grazie a tutti per aver guardato il video.